Le cure palliative sono espressioni dell'attitudine propriamente umana a prendersi cura gli uni degli altri, specialmente di chi soffre. Esse testimoniano che la persona umana rimane sempre preziosa, anche se segnata dall'anzianità e dalla malattia. La persona, infatti, in qualsiasi circostanza, è un bene per sé stessa, è per gli altri ed è amata da Dio. Per questo, quando la sua vita diventa molto fragile e si avvicina alla conclusione dell'esistenza terrena, sentiamo la responsabilità di assisterla e accompagnarla nel modo migliore. Incoraggio i professionisti e gli studenti a specializzarsi in questo tipo di assistenza, che non possiede meno valore per il fatto che non salva la vita. Le cure palliative realizzano qualcosa di altrettanto importante, valorizzano la persona. Esorto tutti coloro che a diverso titolo sono impegnati nel campo delle cure palliative a praticare questo impegno conservando integro lo spirito di servizio, ricordando che ogni conoscenza medica è davvero scienza, nel suo significato più nobile. Solo se si pone come ausilio in vita del bene dell'uomo un bene che non si raggiunge mai contro la sua vita e la sua dignità. È questa capacità di servizio alla vita e alla dignità della persona malata, anche quando anziana, che misura il vero progresso della medicina e della società tutta. Grazie a tutti.